che bello che è sembra di avere un piccolo pinquino in casa che porta calore e siamo tutti ragazzi sono lorenzo e benvenuti e ben ritornati su simulatore di infatti 2020 ragazzi questo gioco mi piace un sacco veramente sono troppo eccitato nel portarlo ma soprattutto nell'ultimo episodio abbiamo portato ma attenzione perché ci sono anche altre pizzerie ma oggi ho deciso di portare dei animatronics ovvero quelli più pucciosi di tutti giocheremo con tui chica e tui boni ma ho questi 227 patch coins no non ti ringrazio springtrap non ti ringrazio direi di spenderli e vai comprasti due animatronici uno due e già che ci siamo vengol ed iniziamo con tui chica impersonal misi di vedazione oh ciao freddino caro quanto tempo che lo ti ripeto oh poni mi ha amato dove è finita la tua chitarra ah no scusa è il nuovo modello di chitarra invisibile mi piace un sacco questa chitarra invisibile oh che bello sono in frapp ehi ho un target nella mia faccia ma che sono un lanciamissimi cupcake go get ma non ci credo mai cioè chica dimmi la verità sei fountain freddy sotto mentite spoglie quindi con z posso lanciare il cupcake scusa ma se lo lanciassi a te tui boni non sarei mai stato il bravo in questi tipi di giochi becca il verde becca il verde oh becca del rosso allora dobbiamo andare a distruggere il guardiello notturno ma dove mai sarà la festicciola è tutto buio no ciao mengolina ciao mengalina ti devo dire una cosa importantissima io amo tantissimo il mio toy boni ragazzi toy chica sta diventando una stalker guardate c'è pure il mirino per identificare la gente che stalkerà perciò io vado a buttare questo cupcake contro il mister endoscheletro ce la devo fare in un modo o nell'altro ce la devo fare eccola là lancia il missile lancia lancia il cupcake non riesco mai a prendere il verde devo sfarcela wait un attimo hotel boni ciao hotel boni tutto a posto tutto a fermo più o meno ma ci sono forse altre animatronici qua manca per esempio hotel e foxy ecco moneta allora ci sono anche qua le monete prendiamole tutte cupcake riprovaci si non ha funzionato manca proprio non so buttare un cupcake contro un endoscheletro guardiano adesso facciamo così se io entro qua guarda io la luce divina ecco il mio target ti prenderò ti prenderò ti prenderò non ti prenderò vai no ragammo ma ma verrà più seriamente mai farà rapiare tu chica mentre è nel suo vai a fare rapiare tu chica vai in qualunque caso vai a prenderlo dannato cupcake faccelo non ce la faccio mai tu chica stai calma stai calma devi stare solo calma prima o poi il cupcake che riuscirà a prendere il guardiero notturno perché il tempo passa così velocemente non pensavo mai passasse così velocemente e se entrassi proprio di qui eh ho un missile cupcake e non ho paura di utilizzarlo endoscheletro guardiano ho fatto un infarto evviva ai ai sono riuscito ad utilizzare il missile cupcake che bello quanto mi piace quanto mi piace abbiamo impersonificato toi chica la pazza stalker dai tuoi ponni ora è il momento di utilizzare i tuoi ponni i tuoi ponni io ti avviso se chica ti becca sei finito no ho la bici volete un po' di rock e tu prendi vuoi un po' di rock 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 la stalker la stalker è qua tuoi ponni sbrigati muoviti vai via dalla stalker si 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 ci vado via dalla stalker vado via dalla stalker maledetta eh non devi guardare così chica non devi guardare così ok ma wait ma perchè io ho il target ma non ho abilità speciali dov'è la mia chitarra roccheggiante va bene a sto punto andiamo a cercare fast coins se necessari per fare più animatronici che bellissimo fonte di luce che arriva da qua fast coins grazie sono cinque io ne voglio molti di più lo sai bene sempre uno sguardo all'orario sono l'1.39 vuoi diventare ricco come springtrap te aspettala non so perchè c'ho il target senza avere il missile chica aiutami tu anche se sei una stalker dammi un missile cupcake è possibile che tuoi ponni non abbia un piano in mente o non abbia un'abilità speciale lui è fortissimo che posso attaccarlo da sinistra ma posso anche attaccarlo da destra e sai che faccio mo? e sai che faccio? eccolo qua il nostro target ecco e mentre è in camera jumpscare assurdo mi scusciò qua non ti mettere la maschera ma ti ho visto ormai ti ho visto tuoi ponni sei lunedì sei riuscito io voglio solo la mia chitarra se riesci ad uccidere il guardiano notturno entro alle 6 del mattino ti regalo una bella chitarra raga appena si metterà col tablet lo distruggerò no muori no ancora di nuovo la maschera si poi mi hai ricevuto la sua chitarra no aspetta un attimo continua allora ce l'ha la chitarra era davvero invisibile quindi tuoi bonni tuoi cica i miei complimentoni ci manca l'ultimo animatronix da utilizzare in front of 2 MEGIO Toi cica non avrà mai il mio bonni il mio bonni è mio solo mio ma io ho più abilità speciali di Toi cica sono più forte di te Toi cica io posso arrappicarmi sui murri guardami vai si effettivamente un missile cupcake farebbe molto più male però posso arrappicarmi sui murri quanto è bello quanto ma dai ma ragazzi mengel può andare sopra i muri ma mi sono bloccata da sola non posso scendere ah ok forse si di qua scendo wait un attimo scendi mengel scendi non posso scendere devo scendere così quanto è bellissimo ma soprattutto lo ha seccato mengel ha la visuale storta mengel hai veramente la luna storta anche il target è storto però c'è una cosa che solo mengel può fare arrampicarsi sui muri e fare interferenze uccidere un guardiero rotto un endoskeletro non è mai stato così semplice assassin mengel un attimo un attimo che adesso entro e mi metto qua sopra perché lui può vedere solo sotto e quindi morso dell'87 no aspetta scusate non è il morso dell'87 come non è possibile come ho fatto a vedermi nel soffitto come ho fatto a vedermi nel soffitto è impossibile la vedermi nel soffitto la situazione si fa più complicata il brutto è che nel prossimo aggiornamento questo qua diventerà più forte mengel da che ce la puoi fare da che ce la puoi fare ti devi solo arrampicare mentre quello si trova nelle telecamere ok ora entra arrampicati anzi no muorici ti prego muorici muorici ma perché si deve mettere quello perché perché non riesco ad ucciderlo come faccio arrivo di soppiatto dentro questa stanza se mi becchi chiamo l'ambulanza per te ovviamente non per me no ce l'ha fatta e io scendo t'ammazzo t'ammazzo muori non ce la faccio raga esatto ma no ma io già te l'ho visto perché perché che cosa è ma l'ho distrutto dai solo qua monè forza che vuoi fare che vuoi fare ce l'ho fatta mamma mia che paura allora senti ti devo smontare ok la smonto raga la smonto eh Lorenzo elettricista pure ok ragazzi io direi che questo episodio su fai una test 3 di 6 il simulatore di infarti posso anche terminarlo qua e nulla abbiamo completato tutto fraff 2 e mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto sto dando la testa al microfono risaltissimi pollici in su per il prossimo episodio e seguitemi pure su instagram qua dal vostro Lorenzo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video eeeh ciao ciao